Vieni, vieni a vedere, vieni. Carino qui, eh? È molto carino. Vedi, lì c'è una chiesetta antica, tutta circondata dagli olivi. Hai visto? Poi lì che... Ho visto una cosa che luccicava? Che cos'è? Bellissimo, un anello. Ah, e fai una cosa, vallo a portare in direzione. Ma a portare in direzione. Vietare, dai. Ti aspetto qua, sì. Dai là la direzione. E... Dai, andiamo, dai. Come andiamo? Eh? Come andiamo? L'anello non restituisce? Eh, lo tengo io questo. Perché? Oh, c'è scritto. Tuo per sempre. Io. Venti al calcio. E quindi qua? E sta un giardino. E quindi... Non è... Grazie.